sto giocando dark soul lo sto facendo per davvero cominciamo bene helder ring helder ring nuova partita luminosità avanti benvenuti come mai ha fatto tutta questa esplosione? perchè ha lanciato una bomba ah ok non ci ho fatto caso ne prendiamo già subito un cadavere però l'atmosfera c'è devo dire che l'atmosfera è veramente bellina no bastardo buonasera signor yotobi ma buonasera signor francesco di parliamo di videogiochi devi imparare piano piano a comprendere come ci si muove che cazzo di spavento è uno dei momenti in cui più ci vuole nooo ma danno gliel'hai fatto? si ma non è così che funziona aspetta oh no non si è attivata l'animazione qualcosa è andato storto io so cosa è andato storto ma manco la mamma mi da c'è una scritta da evocare questo fantasma subito ma quanto sei buono guarda mi ecciti da morire che cazzo è successivo? si è Armandus Paradise molto bello 31 ti posso dare un bacio? e mando la mamma a me da quei ragazzi muovete di cazzo sono tutto eccitato di uno stronzo mi stai dicendo che devo essere io Tocca a te giocare Ma... Qual è la valuta di gioco? Le anime Ok, giustamente Sto guardando luoghi che non avevo mai visto prima È bellissimo C'è lei, c'è lei Oh mio dio Se tu ti fai una passeggiata in linea retta Di 10 minuti Vedi 40 bestie diverse È vero Madonna che bella Ma l'avevo scordata C'è la mochina Oh ma mi ero di coglioni però Porca puttana Bisogna vedere se tiene botta Se tiene botta Armando Amore ciao Volevo baciarti tutto quanto Da testa ai piedi È certo Ma che animale Ma che siamo alla sagra della lucertola Non lo so Per la prima volta sento che qualcosa sta andando per il verso il gusto Quello ti raggiunge dappertutto Io gli ho menato e poi sono scappato Abbiamo fatto questa bella corsetta campestre Ok, allora qui non dovrebbe arrivare No, invece arriva Ma questo è agile Ma quello che cazzo gli pare questo qua Yeah Papapam 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 Veniamo a farvi Il super culo Bastardo Bastardo Rollati all'indietro Rolla all'indietro Rolla Rolla stronzo Rolla all'indietro Yes Mocca mami Dabbà il draccona Vierisco sul tuo cadavere Non si può infierire sul cadavere di nessuno Occhio, occhio C'è sta mia Cioè tu le weapon art le hai come equipaggiamenti Tu puoi mettere gli affondi di uno stocco a una spada Oppure il fulmine di un incantesimo a una mazza Puoi mettere abilità che fanno centri di gravità Come anti My Final Fantasy Su una lancia Puoi fare l'acqua lunga Buongiorno 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 Buongiorno